Normale. Normale è la dolcezza di un sorriso negli occhi di un bambino. La corte voleva mandarlo in prigione. Mi ci sono volute due ore buone per convincerli a mandarlo da te. Ma è anche lo sguardo spento negli occhi di milioni di adulti. Ti prego, Martin. Sei l'unica possibilità per quel ragazzo. Che cosa avrà fatto? Ha messo della droga nella Coca-Cola di qualche bambina? Ha acceccato sei cavalli con un punteruolo di ferro. E può. Il normale. Come un dio. Sostenere e uccidere al tempo stesso. Dove c'è una scuola c'è sempre da studiare. Dove c'è del rock c'è sempre il roll. Dove c'è allegria, always Coca-Cola. Il normale. È l'indispensabile e micidiale dio della salute. E io sono il suo sacerdote. Quando aveva 7-8 anni mi chiedeva sempre di leggergli lo stesso libro. Era la storia di un cavallo. Davvero? Si chiamava Prince. E nessuno riusciva a montarlo. Di perché? Di perché? Fai la sua voce, fama. Mi piaceva immaginare che gli animali parlassero. Puoi accarezzarlo se vuoi. Mi piace. Aggrappati alla criniera. Aggrappati forte. Ho onestamente assistito i ragazzi in questa stanza. E ho risparmiato loro tanti terrori. Al primo colpo chiudi. Al secondo apri. Chiudi. Apri. Ma ho anche, indubbiamente, amputato loro parti di individualità. Le mette le corna? No. Allora la scopa? Ora basta! Me lo dica, me lo dica, me lo dica. Ora basta! Allora? Non avete figli, vero? È per questo, perché non scopate. Basta Alan, vattene subito in camera tua. Subito. Più forte lo fai, più gli piace. Passalo bene lungo il pelo, così. Giù verso la coda e a fondo lungo il pelo. Lo vedi come gli piace? Che cosa è successo allora? Gliel'ho messo dentro. Sì? Gliel'ho messo dentro. Ah sì? Sì! È stato facile? Sì! Gliel'ho messo dentro! Almeno? Gliel'ho messo dentro! Ho spinto fino in fondo! Gliel'ho messo dentro! Hai fatto? Sì! Hai fatto? Sì! Vividi la messa, l'hai fatto? M'affanculo! A me lo puoi dire, Alan. Come si chiama? Ecus. Perché Ecus è incatenato? Per i peccati del mondo. Che cosa ti dice? Ti vedo, ti salverò. Come? Ti porterò via, due diventerà uno solo. Cavallo e cavaliere saranno un unico animale. Una sola persona. Lo invidio. Non è possibile. Non capisci? È la sua accusa! È quello che continua a dirmi con il suo sguardo. Io almeno ho galoppato. Ma tu? Ma quale forma di adorazione ho mai trovato io? Vera adorazione. Ecus! Ti amo! Portami via! Vai di noi una sola persona! Una sola persona! Una sola persona! No! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa